Fratelli e sorelle, oggi la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce ci ricorda che se è vero che siamo circondati e a volte assediati e bombardati da ideologie abberranti, da mode stravaganti e da slogan tanto vuoti come artisonanti, è anche vero che come cristiani cattolici possediamo il Vangelo di Gesù nostro Signore, che interpretato autorevolmente dal Magistero della Chiesa ci permette di discernere e valutare quanto la cultura intorno a noi produce per accogliere ciò che è buono, vero, giusto e bello e rigettare ciò che non lo è. Ciao e Dio vi benedica sempre.